Ciao! Dai solidi! Mi sveglio alle 8 devo essere qua alle minuti precise e mi metto a lavorare Faccio sempre la panna cotta è la mia specialità faccio anche le carote alla julienne quelle lunghe e qua è la cucina questo lavoro mi fa sempre importante voglio diventare un grande cuoco ho fatto esperienza sono molto bravo è importante anche guadagnare i soldi per avere una vita poi fare un giro con gli amici e mi diverto sono contento di questo lavoro eh so fare pasta alla crema di salmone come so fare io voglio dire il mio futuro come vedo il mio futuro il mio futuro è avere un avere una casa e anche un ristorante o si tutto mio è fare delle nuove erigenti quelle diverse da diventare il mare è bello a me piace andare al mare portare e passare tutto il giorno mi sono cambiato ho ricevuto il premio ero emozionato e agitato il mio futuro è il mio futuro è il mio futuro è il mio futuro è l'uno il mio futuro